La classifica sulla qualità ambientale delle città promossa da Lega Ambiente pubblicata sul Sole 24 Ore vede Pordenone sempre svettare, siamo al quinto posto. È vero che scivoliamo in due posizioni rispetto all'anno precedente dove eravamo terzi, ma è una classifica tecnica particolarmente complessa che va analizzata nei dettagli. Siamo particolarmente forti nell'evitare la dispersione della rete idrica, nella raccolta differenziata, nel numero di alberi che sono stati piantati, pensate un po', o alla rete ciclabile. Abbiamo però ancora dei deficit, per esempio le PM10 che a Pordenone sono un grande problema, non solo legate al traffico veicolare, ma probabilmente all'utilizzo delle stufe a pallet o comunque di bruciatori inquinanti. E l'altro aspetto grave è quello della depurazione dell'acqua in cui siamo veramente bassissimi in classifica e questo spiega anche la volontà dell'amministrazione comunale di investire nelle fognature e nella infrastrutturazione per la depurazione delle acque. In ogni caso essere quinti a livello nazionale come capoluogo è comunque un segnale importante che significa che la qualità ambientale della città nel suo complesso è assolutamente un dato di fatto, è un dato accertato. Il fatto di essere scivolati due posizioni ci consente però anche di valutare gli aspetti critici e di poter intervenire per migliorare ulteriormente la qualità della vita di Pordenone.